Sì, dai E mettoni Devi andar via, figa! Non trova le partite Mettoni in pausa, Cristo Ma si sta muovendo la gente! Stanno giocando! Sta... Non lo so Stanno... Vediamo Il gioco sta andando avanti Cosa? Stiamo assistendo a qualcosa? Pianto No, vabbè Cosa sto guardando? Oddio mio! Io ho fretta, devo andar via No, ragazzi No Non ho mai visto una cosa del genere Sto piangendo No, ragazzi Non Perché? Perché? Vediamo, magari si butta anche, vediamo Ma perché sta cosa? È scomporso il bordiere Si è scassato il gioco Si è messo in pausa Nooo Si è messo in pausa Da solo il gioco E adesso chi è che batte? Che non possiamo battere Se il gioco è messo in pausa Se la passano Sto piangendo Sto piangendo Gli l'ha anche parata Non vedo male No, 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 ragazzi No, questa è la cosa più epica Calcio d'angolo Io continuo a falciarmi Vediamo Ma che cazzo Ma che cazzo No, no, no Non ci voglio credere Stanno giocando Vediamo, vediamo Guarda, eh Guarda che c'è gente che scivola Gli l'ha anche parata Si, guarda che c'è gente che c'è a giocare Ma che giochiamo È bellissimo Questo visuale Vai, vai Dio, che anni Se riusciamo anche a segnare E fa certo Li abbiamo anche messi nel panico Con la visuale No, va bene Sto guardando Sto guardando Ma che lo chiamo vicino Io non vedo niente Vai, gioca Fai qualcosa Non lo so Oh, no, vabbè Ma cosa cazzo sto guardando Cosa sta su Non ho capito Come hai rimasto Perché Ma chi sono io Guarda la gente che cade per te Io l'ho presa Ma non lo so Ha fatto il lancio A qualcuno Ha segnato Ma non li segna Ma cosa sta Ma io vedo il portiere che torna in porta Quindi No, no, sto capendo No 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 Mamma mia Non lo so Io non so cosa fare Perché in effetti Non possiamo giocare Ma è divertente Era una cosa epica Guarda Vedolo sugli spalti Non posso giocare È uscito un pulsante È uscito fuori È uscito fuori Tipo Muovi il ricevitore Con L3 E con l'analogico E con l'analogico E con l'analogico Sei tu Sei tu Ma sai che forse Sta succedendo la stessa cosa A loro Ma che poi a rigore Non l'ha segnato Chi è che è questo No, sei davanti alla porta No, eri tu Come si muove sta gente Aspetta Sto cercando di capire quale sto Non è vero Eri tu Ero io Sai che io ho l'impressione Che stia succedendo La stessa cosa a loro Perché io vedo loro Che si fermano Con la palla in mezzo al campo Ragazzi Ma quindi Ti fa vedere gli spalti Ah ma non è la mia porta Ma eri te o io Vediamo, vediamo Sì, sì Io ho l'impressione Che anche a loro Si sia spuntanato tutto Cosa sta succedendo? Oh, che l'Ornaves Sta pigliando un'azione Da colpe Vediamo Dai Segnate per colpe Sia Stiamo difendendo Da quello che ho capito È finito Vediamo Sono tutti fermi Che c'è Rigore Dai Speriamo che lo segna Vediamo che cosa succede Ma sono tutti fermi Adesso Sei tu Sei tu Sei tu Vediamo Dai segna Non bene Ci da 0 a 0 Ma finisce Sta cazzo di Vai Chi è? Sei tu Me l'ha schiappata Oh vediamo Oh Due Aspetta Aspetta Ancora In continuazione Due su tre Vediamo 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 Succederà qualcosa Aspetta Aspetta No No Sono scoparsi Vediamo No vabbè Ma io Io ti giuro Che non ho mai Visto una cosa Del genere Mai Anni che giochi Io non ho mai Visto una cosa Del genere Questo gioco È veramente Distrutto Figa Il peggiore Fifa 22 È il peggiore Fifa di sempre Io non ho mai Visto una cosa Del genere Figa Filippo